E' andato in questo campo, lupo, qua sotto corretto, sotto orecchietto, sotto il cappello, e la mamma ha detto, non parlare con il nostro, mi ha detto no! Sì, mamma ha detto, e diceva, cavomiglia, c'è stato un pochino, ma lei non voleva. Lei montava da, e quando il lupo corse rete dalla nonna, la calla, e la calla, e il lupo non poteva andare dentro. Chi è? La nonna. Oh, la nonna. Lei dorme? No. Oh, non dorme, ok. And the cat wakes up. Lei malata, sì. Because he's going over here, and the door for me. Oh, la porta è aperta! Oh, non ha mai dato che la porta è aperta. Oggi è venerdì. Giusto, oggi è venerdì, caro. Sorpresa! Oh, no, sorpresa! Devi sentire. Oh, scusami. Oh, quando il lupo si ammette, ha trotto e ha detto, non ha detto, sorpresa dalla nonna. Sì, 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 sì. Oh, oh, attenzione, Luca. No, 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 è qui noi. Ma come sai il passato remoto? E' quando la nonna ha detto, brutto lupo, vieni via, vieni via. Oh, no, 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 no. Look, Johnny, canta, freno. C'è chiada? Mic entities, hai. C'è chiada? C'è chiada? C'è chiada, non è che chiada? Ma, mamma, che, che, che grande che hai? Un'estocco. Mamma, che buca che hai? Un'estocco. 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 Ok, Luca, te lo aspetta perché voglio ascoltare il libro di Valentina che poi leggiamo, ok? E guarda questa pancia. Guarda questa. Wow, che grande pancia. Ma fuori il drattore. Come si chiama questo? Non lo so. Il cacciatore. Il cacciatore. E poteva aprire la pancia e aperto la pancia. E aperto così. E chi c'era dentro la pancia? Capitletta rossa e la nonna. Oh, my gosh. Oh, mio Dio. È una grande pancia. E quello è una brutta. E Tommy ha detto capricciata rossa. Yes, big. Aha. E il cocodrillo. No, cacciatore. No. Oh, il cocodrillo? Io dico, io vado. La nonna. Che ha detto capricciata rossa? E vado la nonna subito là. Ok. Brava. Die corsa. No, no, a agua. La. No, no, a agua. E la.